Tre anni per mettere un'argine alla piaga del caporalato e dello sfruttamento lavorativo. Braccio antivessati, condizioni di lavoro da fame, anche tre euro all'ora per una giornata che arriva fino alle 12 ore. Prova a tamponare il fenomeno, il piano triennale approvato a Roma, presso il Ministero del Lavoro, con il Ministro Nunzia Catalfo. Presenti anche il Ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova e il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. Il piano parte da una mappatura dei territori e dei fabbisogni di manodopera agricola e prevede interventi d'emergenza e di sistema, seguendo quattro assi strategici. Prevenzione, vigilanza e contrasto, protezione e assistenza e infine reintegrazione sociolavorativa. Tra le priorità anche l'attuazione di soluzioni abitative dignitose per i lavoratori del settore, spesso costretti in alloggi degradanti.